Buongiorno a tutti, oggi è sabato 20 giugno ed è la memoria liturgica del cuore immacolato di Maria. Ascoltiamo il Vangelo secondo Luca capitolo 2 versetti dal 41 al 51. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava e tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse, figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Ed egli rispose loro, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Oggi meditiamo proprio questo mistero di Maria. Il Vangelo che ci viene proposto in questa memoria liturgica che celebriamo è proprio il Vangelo che ci fa cogliere il mistero del cuore della madre. Nel linguaggio biblico sappiamo parliamo di cuore, non si tratta di muscolo cardiaco, ma dell'interiorità della persona, della sua coscienza. Ecco oggi quindi entriamo proprio nell'interiorità della madre di Gesù, madre della Chiesa, madre dell'umanità redenta da Cristo. Il cuore di Maria, l'interiorità della più pura tra le creature, che dal principio della creazione fu pensata da Dio per contenere l'agnello senza macchia, colui che ha purificato tutti noi col sacrificio della croce, del dono totale dell'amore. Il testo del Vangelo di oggi infatti ci ricorda proprio questa opera di redenzione di Gesù e sembra quasi annunciare la Pasqua. Di fatto è ambientato nel tempo di Pasqua come ci testimonia proprio questo brano del Vangelo di Luca. Gesù adolescente viene cercato ma solo dopo tre giorni viene trovato, proprio tre giorni, un tempo che ricorda il triduo pasquale. Al terzo giorno Gesù si fa trovare nel Tempio, Lui che è il vero Tempio di Dio, la presenza di Dio stesso in mezzo a noi. Ed ecco le parole della rivelazione. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Una frase che nel testo originale greco suona in traduzione in questo modo. non sapevate che io devo essere nelle cose del Padre mio? La madre cerca e ha cercato per tre giorni il figlio, angosciata. Pensa che si è perso ma Gesù non si è perso. Anzi, dalla risposta che dà Gesù sembra che sia stata lei a perdersi. Lui è nel Padre, siamo noi che lo cerchiamo altrove e Maria oggi ci testimonia proprio che ciascuno di noi come lei dovrebbe imparare a stare nel Padre, nelle cose del Padre come Gesù. Certamente anche Maria ha capito questo mistero dopo la Pasqua di Gesù. Nella Pasqua ha finalmente capito quello che custodiva il suo cuore, il dono vero della sua interiorità che desidera oggi offrirci. Così per l'annuncio di questo Vangelo, testimonianza di risurrezione, tutti noi seguaci di Gesù siamo chiamati a vivere col cuore della madre la sua interiorità che non è stata mai turbata anche quando non capiva nulla, anche quando si era persa cercando il Signore chissà dove per tre giorni, angosciata. Impariamo allora che più che lamentarci in certe situazioni o cercare a tutti i costi delle soluzioni o angosciarci per risolvere i nostri problemi, dovremmo pregare la madre di Gesù che ci aiuti a vivere questa sua esperienza, a essere nel Padre. Il verbo greco diatereo significa proprio fare la guardia, mantenere con attenzione, custodire. Indica proprio questo atteggiamento di Maria che ci vuole condurre al Padre come Gesù con amore di figli. Chiediamo allora a lei, donna piena di grazia e di ogni bellezza, il cui cuore non conosce disperazione ma serenità, non sente rancore ma tenerezza, non conosce menzogna né alcun sentimento cattivo ma solo leggerezza e libertà, anche nel pianto, nel dolore. Maria la vediamo così. Chiediamo allora a lei di donarci i sentimenti del suo cuore puro e immacolato. Affidiamoci a lei perché anche noi possiamo testimoniare come lei la grazia della Pasqua di Gesù nelle nostre vite e ricevere il dono dell'interiorità, del cuore che ci conduce al Padre. Buona giornata.